Ehm... Bella a tutti ragazzi Questo video diciamo che è a scopo di divertimento Tranquillo solo al falbeto Eeeh non lo so stiamo un po' improvvisando Dittemi se vi è piaciuto questo video A B C D O H E L L I CHAMO A A A A A U Oh D 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 G H J E Y D 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